Ciao a tutti, io sono la bambolina e oggi vi parlo del fidget spinner Vabbè, mi serviva l'intro Ciao a tutti, oggi una nuova collaborazione Per la prima volta ho ricevuto il mio primo fidget spinner E' bello, l'ho scelto io E' una collaborazione avuta con lo shop di Amazon Non mi ricordo il nome, tipo Gulp, Golep, non so del genere Ve lo lascio nel video e anche nell'info box se siete interessati La spedizione è molto veloce, arriva intorno ai 5-6 giorni al massimo E niente, la cosa bella di questo fidget spinner è che in metallo duro Arriva in questo cofanetto tutto confezionato, veramente alla perfezione Troppo 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 carino Io apro e qui c'è C'è Francesco comunque che sta riprendendo Saluta, ormai che ti sei fatto sapere Ciao a tutti Questo è il fidget spinner, allora io non lo so usare Prima l'ho smanessato un pochettino Non ho capito l'utilizzo Il gatto si è fatto anche male perché ha messo il naso sopra Comunque guardate quanto è pieno Guardiamolo bene E' piccolo, me lo immaginavo più grosso Invece è molto piccolino L'unica cosa che riesco a fare col fidget spinner Perché me l'ha spiegato Francesco E' sto coso qui Tenise non sono brava Alla fine non passo tempo dai Un antistress Io non capisco l'utilità di sto cosa L'antistress a me lo fa venire lo stress perché non riesco ad usarlo Quindi Niente, che vi devo dire È fatto in metallo, è dorato Ci sono diversi modelli da scegliere O argento, nero oppure dorato È proprio in metallo c'è sto cosino che sembra che traballa Non è che sembra traballa veramente Il morale della favola Questo fidget spinner andrà a Francesco Perché non appena l'ha visto Mi amore, nei regali È troppo bello Ragazzi, trent'anni, buttati nel cesso E non sentirli E non sentirli Non senti neanche me Niente, ringrazio il rivenditore E niente, spero che questo fidget spinner vi sia piaciuto Non so, fatemi sapere se chi c'era questo fidget spinner È magari così pesante Oppure questo particolare Che è proprio fatto apposta Sembra che è indistruttibile Perché è cos'è acciaio, mi sembra Fatemi sapere se tutti i fidget spinner Sono fatti dello stesso materiale E se il video vi è piaciuto lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdervi tutti i miei video di questa pazza Niente, vi mando un grosso bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 a tutti Posta questa cara Si